Che confusione sarà perché è il gioco, è un'emozione che sale piano piano, si incinni forte e stai più vicino, e chi lo salta è un'emozione. Stadio di San Sero, una città, due squadre, interventi, che si alzi il scifario, le formazioni, inter, Reid oh, Herzmer Inten, merda Merda, Merda Merda Perga! 1,27 è Euguri, 1,33 è Ambrosio, 1,55 è Legatolo, 1,83 è Felipe Nero, 1,40 è Mai, Areffa, Areffa им grande, presenta le Formazione Andrea, Cota e 2, con il numero 92, Giovanni Giannar Shieldma, Il numero 10, Kerenicka! Il numero 13, Alessio! Il numero 18, il capitano, Riccardo! Il numero 19, Bajero! Il numero 20, Bajero! Il numero 27, Yuri! Il numero 28, Gianluca! Il numero 31, Luca! Il numero 33, Dio! Il numero 32, Dio! Il numero 32, Cristiano! L'acqua! Il numero 32, Cristiano! Il numero 32, Riccardo! Il numero 77, Alessandro! Il numero 32, Martian! Con il numero quattro, Iusei E con il numero sete, Jeremy Con il numero sedici, Andrea Con il numero diciassette, Cristina Con il numero venticinque, Stefan E con il numero quattro, Marco Elefetti Con il numero 72, Bruno Con il numero 91, Andrea Con il numero 96, Davide Altenatore, Signi, Sha L'armità in un incontro Antonella, Don Marletta, assistente di Miratone, Davos Assistente di Conte, la selezione di Camerose Mettere tutti nella casa della mia Oh, questo è inocchio C'è un telo che scende giù e uno che viene sotto Si